immergermi nelle acque più buie e profonde per osservarmi nei vari stati che essa può assumere per scoprire chi sono e chi voglio essere noi stiamo costruzando in modo in cui stiamo chiedendo qualcosa ma in questo modo stiamo concentrati su ciò che perdiamo e su ciò che vogliamo quando diamo grazie sull'opposito per il contrario stiamo concentrati su ciò che abbiamo già e possiamo riconoscere quanto abbiamo quanto la bellezza è around us grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la presenza del cinghiale ha rivelato la nostra natura selvaggia come simbolo di purificazione e fertilità mi spinge ad abbracciare l'istinto primordiale l'autenticità la creatività e la spontaneità grazie a tutti 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 grazie a tutti